Ciao a tutti! Oggi prepareremo le patate alla pizzaiola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Ingredienti sono patate tagliate a fette, salsa di pomodoro, mozzarella tagliata a fettine, oregano, olio, sale, pepe e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua e un cucchiaino di sale. Posizionare il coperto senza il misurino. Condire adesso le patate. Abbiamo posizionato un foglio di carta da forno bagnata e strizzata sul vassoio del Varoma. Abbiamo messo le patate. Mettere sopra la salsa di pomodoro, condire con il sale, il pepe, condire con un filo d'olio. e l'origano. Posizionare il Varoma. Chiudere con il coperchio e cuocere per 20 minuti. Temperatura Varoma. Velocità 2. Aggiungere la mozzarella e proseguire la cottura per 10 minuti. Temperatura varoma. Velocità 2. Le patate sono cotte. Lasciare intiepitire e servire. Patate alla pizzaiola. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.